Allora oggi faccio questo video dubbioso, scettico più che dubbioso, cani anti-covid, ne avete sentito parlare anche voi? Allora vi leggo rapidamente un articolo che vi metto anche qua sotto In Alto Adige prendono servizio i cani anti-covid e dal 7 gennaio la presenza di cani anti-covid dagli ingressi di alcuni istituti scolastici ovviamente Come funziona un cane anti-covid? Cioè io allora so come funziona un cane molecolare, ok? Quindi sente l'odore specifico di alcune cose, siamo d'accordo, la cocaina avrà il suo odore, l'eroina avrà il suo odore Le persone hanno il loro odore, se sono sepolte eccetera le puoi seguire, le puoi trovare Sono d'accordo, ma il covid che odore ha? Cioè cosa sentono esattamente i cani anti-covid? Ma funziona anche per altre malattie? Perché so di storie un po' così, aneddotiche, scientifiche Del tipo il cane che odora la lesione della padrona o del padrone e poi è un melanoma, ok? Cioè in quel caso specifico un cane ha sentito un odore specifico in una condizione particolare Ma non credo si possa far, cioè non sono degli strumenti diagnostici Cioè che io prendo un cane e lo metto davanti a 100 persone e mi identifica perfettamente chi ha un tumore e chi no, ok? Quindi come funziona con il covid? Si può fare? Si può fare anche con altre malattie? Questa è una domanda interessante che faccio principalmente ai divulgatori scientifici italiani Quindi Biotrice Mautino, Dario, che chiamo per nome perché si chiama come me, Entropy for Life Non lo so, qualcuno, qualcuno lo sa Io sono molto dubbioso sul loro funzionamento, insomma Certo sarebbe molto bello se funzionasse davvero così Prendi a destra un cane e basta, non devi più fare praticamente nessun test Sarebbe davvero la soluzione perfetta Quindi in realtà dobbiamo sperare che funzioni così E questo era il primo punto di questo video un po' scettico Io appunto vi dico, se qualcuno ne sa qualcosa, me lo dica La seconda parte invece, vabbè, è una polemica tipicamente italiana E cioè, ci sono dati su questa cosa Da quello che ho capito, no, nel senso che se ne parla in maniera ipotetica Anche su Nature ne hanno parlato, ma in maniera ipotetica O un'ipotesi potrebbe funzionare o no E in Italia ve ne fatto, cioè qualcuno ha sborsato dei soldi in sostanza per fare sta cosa Giusto? Cioè qualcuno ha pagato E vi sembra normale? Cioè solo a me sembra strana questa cosa? No? Solo a me? Davvero? Solo io? Allora niente, scusatemi Niente, quindi se ne sapete qualcosa Fatemelo sapere Fate circolare questa voce a chi di dovere E niente, arrivederci